Ciao a tutti gugi, ben ritrovati dal vostro Unlink 91, finalmente su Sonic Forces Direi che sarebbe anche ora di continuare e magari proprio oggi finire il gioco Non ho idea di quanto possa mancare, però so per certo di essere alle fasi finali Dato che ora, a parte che c'è nullo space, ma noi siamo praticamente al 90% di conquista del globo Diciamo, e quindi insomma ci manca davvero poco Anche dall'ultima Cinematic che praticamente ci faceva capire che mancava davvero poco Benvenuto Sonic, sono contento che tu sia venuto al tuo funerale E infine, vai! Prendi questo Che cos'è? Quello mio piccolo nemico amico è lo spazio nullo Spazio nullo, è un trucco preparato dal rubino fantasma Uno spazio racchiuso in cui non esiste assolutamente nullo Ciao ciao Sonic, mio nemico vive ancora per poco Goditi tutto questo nullo Figato, risuccherà anche te 2 Abbiamo distrutto la fonte di potere del rubino fantasma Distruggete sempre la fonte di potere delle mie armi Così ho deciso di imparare dai miei sbagli E ho creato una fonte di riserva Sotto me trappoli Bene Durante la cutscene stavo dicendo Ma è un boss o è Un livello Oh mio dio Che figata Ok Vai potenza massima Raggiunta Anche col turbo doppio non penso Ce la faremo Sonic Ce la faremo resisti collega Niente resiste alla nostra potenza massima Nemmeno lo spazio nullo Ok ora sono io a giocare Bene Che figata Oh oh ok piano Ragazzi il level design Di Sonic è qualcosa di spettacolare Davvero Mi piace un sacco il level design Che hanno i giochi di Sonic Ah la soundtrack è bella pure Se evitassini di morire Però sarebbe meglio Oh però questa è la soundtrack completa Quindi insomma è tanta roba È tanta roba Ah qua devo andare ok Bello Bello Uh Oh Calma Che bello Sono anestasiato Vai Che bello Oh yeah Yeah Oh Oh Dopo la dove compare Ok Oh Yeah Vai, raggiunto Eggman, è infinite Ho perso diverse volte in modo assurdo Quattro tentative addirittura Ma non mi agganciavo il bersaglio Quella volta, vabbè, due volte perché ho fatto le cazzate io Ma le altre due non mi agganciato il bersaglio Quindi non potevo pretendere più di tanto Mi scusi Cosa non può essere? È impossibile uscire dallo spazio nullo del rubino fantasma? Se fossi stato solo, forse Ma il mio amico mi ha dato una mano Una cosa che non puoi capire, dato che tu non hai amici Non ha alcuna importanza Perché il dottor Eggman riderà per ultimo lo stesso Forse avrebbe più amici se non parlasse più di se stesso in terza persona, no? Probabilmente sì Ah ecco, mi sono sbagliato Vabbè, rama 70, ora siamo 85% Quindi non manca davvero tanto, manca davvero poco invece È sbloccato una fase segreta Che penso giocherò, forse farò un megamix alla fine E tutti quanti le fasi segrete, non lo so Se c'ho voglia lo faccio Imperial Tower Eggman Empire Fortress Non c'è più tempo Dobbiamo entrare subito nella fortezza Sì, certo È la nostra ultima occasione per riportare la pace nel mondo Ma... Alla fine della battaglia dovremo separarci da Sonic Cioè, da questo Sonic Perché? Sì Quando il rubino fantasma sarà distrutto Sonic tornerà alla sua dimensione Grazie di tutto, Sonic Non dimenticherò mai ciò che hai fatto per noi Rimandate le smancerie a dopo Non è ancora finita La battaglia ci aspetta Esatto È la nostra ultima possibilità Diamoci dentro Ok, quindi Questa è l'Emperial Tower Cavolo, mi sembra che sarebbe un po' tosta Però Però ce la farò Andiamo Prendi questo Ehi, Infinite Non ci vediamo da un bel po' Ti sono mancato? Oh sì, moltissimo Non vedevo l'ora di annientare te e i tuoi amici insopportabili Suppongo siate tutti pronti per lo mio Se non lo siete Ho impazienza Cosa? Chi ha usato? Obiettivo ricontermato Modalità terminio iniziata Rivalza inevitabile Omega Bene, sei con noi, fantastico Non esiste un modo per schiacciare questi insetti Trasformerò la tua resistenza in cedere E tu la seguirai Wow, non credi ai miei occhi? È soltanto un effetto speciale, vero? No, non lo è Siamo sotto il controllo del rubino fantasma È la nostra realtà Davvero incredibile Incredibile Che speranze abbiamo contro quell'ora? Il sole tramonterà sotto tutti noi Boom La fine La vostra patetica vita è conclusa Guarda, sto reagendo Eggman aveva parlato dei prototipi del rubino fantasma Fa vedere Adesso ricordo I prototipi del rubino fantasma Reagiscono solo con chi li ha attivati Quindi sei tu, Spira L'hai attivato col tuo coraggio d'eroismo, probabilmente Sai che cosa penso? Che se lo userai Forse riuscirai a far sparire quel sogno Ma che figata Che figata Oh, cosa vedo lì? Ok Quando penso dobbiamo aprire il B per saltare via Ah, ti può saltare a parete di Super Mario, ok Ah, perché qua ci sta elettricità Ok, ho capito Ma ragazzi, ma quella cinematica era Wow Vabbè, questa era facile Non c'era bisogno Di stare attento Oh, parte ora Ok, fatto Oh, cavolo Vabbè, cambio di strada Oh, carca miseria Dove cavolo stavo andando? Mi ero perso per un attimo No, allora, allora Aspetta, facciamo capirci Ecco Ok, mo ci siamo C***o Vabbè, c***o, però Vabbè, c***o, però Ok, ci siamo No, c***o Dai C'era un checkpoint lì Ok, meno male C'era un checkpoint Ma io sto fluttuando proprio Ecco, non capisco perché fluttuo Se riuscisse a calcolare dove atterro Quanto pare ho molto Ok, ho molto spazio per atterrare A quanto pare Non devo preoccuparmi di questo Va bene, posso andare Ora so come fare Perfetto Lo spazio non mi preoccupa più Lo spazio che ho Perfetto, si sale Ah, ok Vado ad andare qua Oddio, cosa sta succedendo là? Qualcosa che non mi piace Probabilmente Sì, qualcosa che non mi piace In effetti Non ce la faccio Non ce la faccio Ok Ci provo Meno male Meno male È andata benino 8 tentativi ho usato Mamma mia Che schifo Che schifo Non riuscivo proprio a capire come Non riuscivo a capire come cavolo saltare Perché mi fluttuava E fluttuandomi Mi faceva perdere il senso del tempo del salto Accettate il vostro Perché le vostre vite stanno per finire 3, 2, 1 Il sole è sparito Cosa? Che è successo? Impossibile Pensavo non ci fossero più prototipi Pare che sia stata una svista, dottore Ecco perché controllo e ricontrollo sempre tutto Come fa ogni bravo scienziato Questo è il nostro momento, ragazzi Sfruttiamo il vantaggio e facciamogli vedere che comanda Ok Sarebbe bello però un picchiaduro C'è un picchiaduro di Sonic Però non è tanto bello L'ho giocato fino allo sfinimento Su Game Boy Advance Sonic Non mi ricordo cosa Non mi ricordo come si chiama però Ti prendevi a botte con gli altri giocatori Con il computer E vincere era molto facile Però sinceramente Un picchiaduro in questo momento di Sonic Mi farebbe davvero piacere Sonic c'è già in Super Smash Bros Però Non gioco a Super Smash da diversi anni Poi l'online Pieno di cittoni Non funziona bene Non ne vai la pena sinceramente Intento su 3DS Perché su Wii U funziona anche Abbastanza bene Sì va bene Ok abbiamo finito di distruggere i robotoni Chi è questo mo? Oh Salvo per miracolo Sonic Scusami Ecco grazie Oh mio dio che paura Non devo rifarlo M.T. Queste le gazzelle Iniziano a correre Oh Si è fermato Vai Questi sono livelli belli Vai Grande Sì Ce l'ho fatta Peccatevi questo speedrunner Oh mio dio Non avevo anelli Non avevo Wow Senza anelli Cavolo Quella lì è una buona tattica Per gli speedrunner Cioè prendi quello Salti tutto il livello Praticamente Salti buona parte del livello Bello Veloce Veloce Facile Se non fossi cascato Penso l'avrei completato In un solo In zero tentativi Cioè con uno solo E invece che due Ottimo Ottimo Cioè In tentativi In Sonic Vengono contati Da zero A Da zero Fino Fino al 99 Credo Quindi diciamo che Con zero tentativi L'avrei fatto Infinite Mi sa che questo È l'ultimo episodio Quindi Ok Andiamo L'ultima fase E Avatar in prestito No Con l'avatar mio vado Oddio So che il martello È forte Sono porco spino Patetino Il rubino fantasma È indebolito Ma io ho ancora Abbastanza potere Per schiacciarti Come in me E ti mostrerò Quanto sono Superiore a te Sai che sono io Il numero uno Sei tutto fumo E niente arrosto Infinite Oh no Siamo con Sonic Allora Va bene Mi fa piacere Mi fa piacere Se è un hit and run Come il primo Di scontro con Infinite Che correvamo Su una Su una percorrenza Tra gitto Praticamente Infinito Oh Oh Infinite Perché non posso Ah ok Devo distruggere i suoi cosetti Che li girano attorno E però può attaccare Lui di prepotenza Giusto Vai Vai Prepotente sono Sono prepotente Infinite Ah si prende Prende le distanze Giustamente Ma devo stare attento A sti cosi Perché girano Oh Eh dai Uno Due E tre Baby Ah Sei finito L'energia Del rubino Fantasma È ricaricata Quindi Ora Ora soccorri Insieme A quei Mudi Amici E grazie ai miei amici Che sono qui E insieme Noi vinceremo Gli amici Non sono altro Che non è illusione Vuoi contare Solo su te stessa Sei triste È solo E la tua maschera Non lo può nascondere La realtà virtuale Di quel tuo rubino Fantasma È la vera illusione Ok Basta 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 Ah Che paura Uno Due Tre Vai spina Cioè Sonic e spina Ovviamente Ma ancora No Che è successo Che è successo Che è successo Wow Ma dai E muo' lui Dai Ancora ragazzi Ancora No ok Andiamoci piano Possiamo anche Prendercela comoda Non possiamo Prendercela comoda No Però corriamo Perché sennò Ci raggiunge dietro Ci raggiunge Non so cosa sia dietro Ma ci raggiunge Ah ok Corri 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 Sonic Più forte Sei tu Che succede ora Potere Ma ho l'asteroide Che mi proteggeva Dai 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 No Che è successo Alla fine del livello Ma la fine del livello Ma davvero Ok Quasi fatta Oh eccolo Eccolo Vai Più potenza Vai proprio Stando velocemente Y nella mia vita Uh Yeah Ah fatto Fai un passo veloce In una fase sola Una cosa Oddio cuore Davvero Mi hai premuto Così tante volte Y In tre secondi Quanto è il tempo Che mi da lì Mamma mia Ok Non so Quanti Oggetti avatar Siano possibili Sbloccare Ma Impossibile Non posso essere sconfitto Sbagliato Perdente Ciò che non può essere sconfitto Sono il cuore Lo spirito E i legami di amicizia Tre cose che mancano a te E ai tuoi finti compagni No Aspetta Posso ancora combattere Non smetti mai di sorprendermi Sonic Non pensavo che Infinite perdesse La vittoria sarà ancora più divertente Quando ti batterò Non credere che sia finita qui Insetto blu Perché il mio piano è solo ai sopplementari Ok Quindi non è ancora finita Ci manca ancora un po' Vabbè però Per questo episodio Allora va bene Iron Fortress Quindi non è finita Quindi C'è un altro episodio Ancora sicuramente La Kugia Quindi Questo episodio Non è finale Ottimo A me va bene anche così Quindi Kugia In ogni modo Io direi che per questo video è tutto E come sempre Vi ringrazio per averlo finito Nel prossimo Vedremo se sarà Il finale o no Non lo so quando è il finale Non ho idea di quanti livelli ci siano Però In base a quanto ho giocato Dovrai essere alle fasi finali Io vi ricordo come sempre Che in descrizione c'è il link Per Twitter e Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Bye bye Ciao